Una sentenza della Corte Suprema Americana dice che la Banca Mondiale non può nascondersi dietro l'immunità. I suoi membri ne devono rispondere personalmente delle scelte di finanziamento in questo caso, ma adesso approfondiamo questa notizia che vanno a prendere. Però voglio ribadire un concetto, magari alcuni di voi gli sfugge. Cos'è sta Banca Mondiale? Attenzione ragazzi, non è che intendo con Banca Mondiale le banche mondiali, cioè la Banca Mondiale è una vera e propria banca che ha per statuto dei regolamenti, degli obiettivi che si deve prefiggere e come ti ho già detto se ti sei iscritto e hai visto i video precedenti in questo canale, ne abbiamo parlato in qualche video, non in tutti perché le sezioni che sono varie in questo canale l'invito come al solito è quello di iscriverti e di andarle a visionare. Abbiamo parlato di Banca dei Regolamenti Internazionali, di Fondo Monetario Internazionale e di Banca Mondiale per farti capire chi è alla piramide di chi governa finanziariamente il mondo. Ora il potere è nelle banche centrali, tra le quali la Banca Centrale Europea, che devi sapere che anch'essa e i membri che ne fanno parte sono coperti da immunità. Cioè per intenderci Mario Draghi se viene appurato che ha commesso un reato non ne può pagare personalmente. E così tutti i membri della Banca Mondiale, delle banche centrali in genere, ma soprattutto della Banca Centrale Europea ti voglio parlare in questo video per poi ritornare sull'importanza e sui fatti di questa sentenza, la sentenza della Corte Suprema Americana appunto che ribadisce il concetto che non esiste immunità per i membri della Banca Mondiale. Questa notizia sta girando in vari siti internet, non nei mainstream e nelle telefinzioni chiaramente, però si ribadisce un concetto che è molto importante perché la sentenza è storica della Corte Suprema che dice che i banchieri internazionali possono essere arrestati. Ma secondo me il punto fondamentale, e ritorniamo poi dopo sulla notizia, è capire perché, ribadisco, le persone non conoscono il fatto che le banche centrali siano coperte da immunità. Esenzione dalla tassazione del reddito, questo hanno i membri. Esenzione dai dazzi. Esenzione sulle leggi sul lavoro nazionale e sulla previdenza nazionale. Sono esenti dalla legge sulla protezione dei dati personali. Hanno totale immunità giurisdizionale. Per intenderci, nessuna Corte o Tribunale nazionale può emettere una sentenza contro la BCE e i suoi membri. Hanno l'immunità dall'applicazione di leggi. Ad esempio, la sede e gli immobili della BCE sono territori inviolabili. Per intenderci ancora una volta, la Polizia nazionale non può accedere nella sede della BCE. L'accesso è possibile solo dopo che hai richiesto alla BCE se ci puoi entrare. Hanno l'inviolabilità dei mezzi e dei trasporti. Hanno l'inviolabilità delle informazioni, delle archiviazioni, dei dati che possiede la BCE. Della sede, per intenderci, niente intercettazioni a Mario Draghi. Lo staff della BCE, tutto lo staff della BCE, è coperto da immunità. Una completa immunità di qualsiasi azione legale. Ti ho già detto sulla parte fiscale, hanno un'esenzione totale della legge fiscale. Ma quel che ti devo aggiungere è che tutto lo staff della BCE è esente da qualsiasi tipo di tassa. Ah, scusa, non solo lo staff, anche tutti i familiari. Ah, scusa, mi sono dimenticato anche sta cosa. Anche le residenze. Non si può entrare nelle residenze dei familiari e dei membri dello staff della BCE. Ah, scusa, non pagano l'IVA. Sono essenti da qualsiasi tipo di imposta. La BCE è una pacchia, ragazzi. È una pacchia. È una pacchia. Ma essere immune alla legge, con i poteri che loro hanno, non poter arrivare ai dati personali, agli archivi, chiedere autorizzazione prima di entrare nelle sedi e avere immunità su tutto il territorio europeo. Attenzione ragazzi, i membri si spostano nel territorio europeo e hanno un'immunità totale. Ora puoi capire perché è così importante la sentenza della Corte Suprema americana che dice sostanzialmente che i banchieri internazionali, la BCE ad esempio, in questo caso si è pronunciata su una situazione, su un caso specifico, che ti invito ad andare a visualizzare in internet, adesso ti accenderò qualcosa, quanto è importante questa sentenza perché ribadisce un concetto che per molti di noi dovrebbe essere la normalità. Ma a quanto pare, come hai capito oggi, da statuto delle banche centrali mondiale e europee, nel caso di cui abbiamo parlato oggi, non lo è. Giusto per entrare un attimino nella storiella della Banca Mondiale. La Banca Mondiale finanzia progetti per i paesi sottosviluppati e nel caso specifico aveva finanziato un progetto che secondo alcuni pescatori di una regione indiana avrebbe, diciamo così, rovinato l'ambiente, avrebbe creato un disastro nell'ambiente. Quindi avrebbe finanziato un investimento per ricavare soldi, denaro e deturpare l'ambiente. E nel caso specifico la Corte Suprema americana ha ritenuto di dover condannare alle proprie responsabilità i banchieri internazionali della Banca Mondiale. Ora, il mio obiettivo in questo video era raccontarti delle immunità, perché ogni informazione viene al momento giusto. E credo che questo è il momento giusto per dire questo tipo di informazione. Fammi sapere tu cosa ne pensi nei commenti, lasciami un mi piace se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale se reputi di essere interessato e di formato sulle notizie relative all'analisi economiche, finanziarie, di recessione in cui ci stiamo trovando, ma anche relative a quella che è la mia attività di soluzione debiti, posizioni debitorie con banche finanziarie qui in Italia, riduzione del carico fiscale in una maniera legale, perché altrimenti si rischia ragazzi, blockchain, criptovalute, quant'altro puoi andare a vedere nella home di questo canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!